Il bollettino dei furti a 90 Padovana viene aggiornato quotidianamente. Sono oltre 50 ai colpi messi a segno negli ultimi 10 giorni tra i quartieri di Noventana e oltre Brenta. Oltre al caso dell'ex consigliera comunale Sandra Giolo, che ha pubblicato su Facebook le foto del ladro che l'ha depredata di tutti i suoi gioielli, sono decine le famiglie che hanno subito l'indesiderata visita dei ladri nelle ultime ore. Per questo il consigliere comunale della Lega, Marcello Bano, ha deciso di mettere una taglia. Offre 300 euro di tasca propria a chi sarà in grado di fornire informazioni utili per individuare i malviventi. Una prima segnalazione è già arrivata. Ho già avuto delle segnalazioni, ho già avuto una segnalazione abbastanza circostanziata che trasferirò ai carabinieri su chi potrebbe essere e su dove vive. E mi aspetto che questa iniziativa possa aiutare a trovare questo delinquente a cui invece di dargli 300 euro gli darei 300 legnate. Perché veramente è una cosa vergognosa quella che sta succedendo nel 90. La persona che ha fatto questa segnalazione di questo presunto colpevole comunque non li vuole, ha detto è il mio dovere e per me è questa persona qua, abita in quella via là. La risposta del sindaco Alessandro Luigi Bisatto non si è fatta attendere, non è il far west, ha detto il primo cittadino, che però si è già attivato in prefettura per chiedere un riforzo per la caserma dei carabinieri. Io so che oggi le forze dell'ordine che ringrazio i carabinieri, la polizia sono impegnate in cose più importanti, magari il furtarello dà fastidio. Ma per chi lo subisce e gli portano via i ricordi di una vita è una violenza inimmaginabile. Io sono stufo di vedere persone anziane e anche disabili che piangono quando magari gli vado a portare la solidarietà.